C'è una foresta nella mia testa, c'è una foresta che nel mio balcone ora le piante sono giganti e i miei pensieri sempre più lenti la vista si abbanna, la mente si offusca, il caldo mi uccide mi scoppio la testa, mi scoppio la testa, mi scoppio la testa, mi scoppio la testa mi butto dalla finestra orrendo adizioni, le piante dentro e io sul balcone dalla finestra le vedo bene, nella mia casa la fonda padrone grido nottevolo, giocano a carittere, tutte le sere mi innappiano ad arte spropondano i piedi le mani, le ossa quel vaso di terra già la mia tossa, già la mia tossa, già la mia tossa, già la mia tossa Oh, finalmente, Deborah Petrina all'Elite Festival Finalmente la prima volta, vero? la prima volta, la prima volta all'Elite Festival allora, tu sei di dove? di Padova e vivi e produci lavori lì? a Padova, nel mio salotto diciamo che in particolare questo disco che uscirà a ottobre è stato proprio tutto lavorato nel mio salotto perché c'era un po' di chiusura, come dire, insomma, quindi è stato tutto fatto lì dentro bene, il titolo? l'età del disordine parla del disordine che hai in salotto esattamente proprio di quello si, si, si poi è un disordine che si espande contagia anime, corpi è una cosa grande senti, tu sei musicista, cantautrice ti avvali dell'aiuto di qualcuno? fai tutto da sola? faccio tutto da sola anche Carico Scarico e anche Guido Tir però questo disco comunque si è avvalso della collaborazione di un grande musicista che è Marco Pasolo che voi conoscete per i Janitor per gli I hate my village in cui noi abbiamo curato proprio gli arrangiamenti insieme quindi c'è stata questa collaborazione nel mio salotto in mezzo al disordine bene, allora non vediamo l'ora di ascoltare il tuo disco e di vedere questo disordine e quindi in bocca al lupo creati il lupo però il disordine è creativo eh